Arcangelo Metatron il riequilibrio del femminile la fase finale dell'attivazione cosmica all'eclissi solare del cerchio di fuoco. Arcangelo Metatron attraverso James Fiberon. Salve carissimi, io sono Metatron, Signore della Luce. Saluto e onoro ciascuno di voi nell'amore incondizionato, e vi nutro dentro il vettore spazio di questo momento. E così oggi parliamo della fase finale di ciò che viene chiamata attivazione cosmica. Infatti il suo completamento è vicino e si verificherà, e anzi si finalizzerà nel vostro anno lineare del 2012. L'attivazione cosmica, come abbiamo spiegato nei canali precedenti, è il download di codici geometrici cristallini necessari per il completamento dell'espansione a 12 dimensioni del pianeta. I geocodici sono nella lingua di luce coerente, luce e cristallina coerente. Perché carissimi, la geometria sacra è il tessuto originale di tutte le realtà. La geometria sacra è la lingua, il programma di realtà del cosmo. Caro umano, la vostra realtà è in verità, un inserimento d'ologramma geometrico di energia cosciente e coerente. Quindi è assolutamente necessario capire che la geometria sacra è molto più di un ramo della matematica. Si tratta di una scienza sacra, un aspetto della scienza frequenziale, che voi chiamate amore incondizionato. Si tratta di una scienza sacra, che di fatto forma ogni sfumatura della vostra dualità fisica all'interno dello spazio e del tempo lineare. Cosa succederà il 20 maggio 2012? Piramidi Moody Gardens Texas. L'afflusso del femminile sarà di grande aiuto nel riequilibrio. Tenete a mente che non è il femminile o il maschile, che è necessario per la Terra, ma l'equilibrio dei due, al fine d'entrare nei reami non polarizzati. Le piramidi del Moody svolgeranno un ruolo estremamente importante così come Giza nel raggiungimento di questo equilibrio, ma ci vorranno molti anni lineari per raggiungerlo. Comunque, cosmicamente vi diciamo che ciò accadrà per davvero, e l'ancoraggio del cerchio di fuoco del 2012 lo rende tale. Coloro di voi che sono i portatori del codice svolgono un ruolo specifico nella diffusione del nuovo equilibrio. E' bene visitare sia Giza, che Moody nel 2012 e 2013. Portate con voi un diapasone in Faf diesis poiché la sua risonanza apre le porte all'interno. I codici d'attivazione cosmica. I codici sono metatronici in origine e nell'aspetto, e assolutamente indispensabili per l'ascensione. Considerateli come degli upgrade energetici risonanti per gli inserti olografici, che sono i portali geo-informatici della Omniterra in promozione. Degli aggiornamenti del software, nella vostra terminologia da computer. I download iniziali del moto ondoso finale si verificano il 20 maggio 2012 con l'eclissi solare del cerchio di fuoco, l'ultima ondata del portal e frequenziale della triplice data del 12 dicembre 12. Vi abbiamo detto che il mondo ricrea se stesso adesso e sia che l'umanità, nel micro o nel macro, è di supporto per il vasto cambiamento o contro di esso, sia che ciò venga compreso dall'umanità o no, è veramente un punto discutibile poiché l'inerzia di transizione si velocizza nella realtà più rapidamente oggi di quanto abbia fatto ieri, sia sulla Terra lineare, che sull'Omni-Terra. Questa è infatti la fase finale di completamento dell'attivazione cosmica, e il suo tempo è qui nell'anno preannunciato del 2012. Essa raggiunge il suo download apice con l'eclissi solare del 20 maggio 2012 e comprende quattro progressioni principali. Uno il rilascio di vecchie dormienti energie e cristalline codificate, per la formazione delle doppie ellittiche del nuovo firmamento. Due il passaggio dalla versione precedente della Merkaba verso il potenziamento del punto zero cristallino unificato della Merkana. Tre l'equilibrio finale dell'aspetto maschile-femminile nell'unità integrale. Quattro la piena integrazione delle dimensioni 5 e 12 nell'interfaccia armonica con le dimensioni 1 e 4, le 12, che combinate insieme formano il 13 campo e il campo quantico dell'unificazione dimensionale. Musica delle sfere. Il rapporto simbiotico della geometria e della matematica per il suono, la musica, il colore e luce è reale, ma molto più ampio di quanto attualmente compreso. Ogni coscienza stellare e planetaria all'interno del vostro cosmo è in armonia onnipotente. Ogni ondata astronomica, che bagna la Omniterra nel 2012, è destinata ad accelerare il cambiamento del pianeta così come dell'umanità. C'è un disegno, un programma preimpostato in atto. Quello che può apparire come uno squilibrio è semplicemente una preaccordatura per permettere la sinfonia celeste dell'ascensione. Il maestro asceso, Kutumi nella sua vita come Pitagora scoprì che una corda stoppata a metà della sua lunghezza produce un'ottava, mentre un rapporto di 3-2 produce un intervallo di un quinto e 4 terzi produce un intervallo di un quarto. Qualcosa di simile si verifica anche nelle ondate della Cristo-Luce dei codici d'attivazione cosmica. Questo impreziosisce l'attivazione cosmica con i poteri musicali della guarigione, armonizzando gli effetti di squilibrio dell'intensità del 2012. Carissimi, voi siete tutti scintille della luce divina animica, che stanno facendo una esperienza unica nella dualità di ciò che viene definito l'università della Terra, nell'esistenza fisica, le vostre spirali di coscienza scendono verso il basso attraverso la sinfonia geometrica sacra dentro gli schemi divini del Fie della sezione Aurea. Nell'ascensione, riacquisirete il modello avanzato che vi consente di trasmigrare il toroide della realtà, e come tale invertire la rotazione della spirale, con una rotazione contraria del vortice di vita per ritornare alla vostra coscienza di origine divina dentro la luce cristallina coerente. Le attivazioni cosmiche sono i fattori abilitanti, che cambiano la matrice. E non sono casuali, non sono circostanziali, ma deliberati dal potere creativo divino in una logica, che va anche oltre la vostra immaginazione. È di una bellezza oltre ogni comprensione. Perché le piramidi di latitudine 29,6 sono i meccanismi di ricevimento. I codici vengono ricevuti inizialmente nelle strutture piramidali di Giza e Moody, e diffusi in tutto il pianeta. Essi sono dei catalizzatori per il risveglio e il rilascio dei codici memorizzati e tenuti in strati mineralogici cristallini del pianeta. I codici sono composti dalla sacra matrice geometrica, o taedro informato. Questo è il motivo per cui sono ricevuti in particolare nelle strutture o taedro piramidi, della latitudine 29. Entrambe le piramidi dei Giardini Moody e le piramidi di Giza sono costruite su precisi vettori di convergenza della realtà dimensionale. Così, mentre le suddette strutture piramidali o taedro in se stesse diventano potenti ricevitori e trasmettitori, è il posizionamento specifico all'interno di ciò che potrebbero essere definiti assoluti punti di coordinamento della realtà, che li rafforza nella onnipotenza sia nel piano terrestre e anche oltre. I punti di coordinamento sono vettori specifici di locazione. L'energia multidimensionale va e viene dalla realtà fisica interna ciclo di antimateria verso la realtà fisica esterna materia e viceversa. Ecco perché Giza è sempre stata riconosciuta, e perché le piramidi Moody furono specificamente e specialmente rifondate su ciò che viene definito la testa della colomba. L'energia multidimensionale così come i pensieri sarà naturalmente attirata nella direzione di punti assoluti onnipotenti del coordinamento della realtà. Le dimensioni sono coincidenti dentro e fuori. Ciò si verifica infatti sia alle piramidi Moody così come a Giza. Le piramidi con rapporto Phi esistono su tali punti non solo in tutta la vostra Terra, ma in ogni pianeta del vostro sistema solare. Vi è una espressione unica della flusso in entrata e in uscita del flash della realtà nel ciclo armonico o effetto torridale del flash della realtà. Anche se Giza e soprattutto le piramidi Moody non sono riconosciute o completamente capite, una immensa attività di natura benevola sta avvenendo attraverso di loro. Tutte e quattro le fasi dell'attivazione cosmica sono state ricevute attraverso questi punti. Queste strutture sono i punti assoluti della realtà multipla, contenenti sempre più grandi potenziali energetici, punti assoluti, anzi, dove tutte le realtà si interconnettono e si fondono. Ci sono punti di coordinate principali, pure fonti geomatematiche di energia inimmaginabile, e Moody e Giza sono due dei più importanti al tempo presente sul vostro pianeta. Ognuno ha dei punti di coordinate subordinati, coordinati in numero in base alla realtà dimensionale del collocamento. Tutti gli stabilizzatori dimensionali di programma definiti dischi solari sono messi in tali vettori. Questi sono tutti di fatto collegati alle due piramidi primarie di coordinamento di Giza e Moody. Voi ancora non avete idea delle reti di energia che formano le vostre realtà. Nulla è casualità. Trascorrere del tempo focale all'interno di tali punti piramidali offre l'opportunità al ricercatore serio di una maggiore crescita di crescita e una concentrazione del pensiero per aiutare l'amplificazione delle emozioni e simili, che aiuterebbero maggiori manifestazioni di pensieri in realtà manifeste, fisiche e non fisiche. La manifestazione del pensiero è, come tale, accelerata per coloro in grado di un sufficiente quoziente di luce per comprendere i meccanismi dei processi di creazione mentale nel fare da ponte fra il cervello egoico e la mente divina. Molto di ciò che accade può essere non riconosciuto nel cervello egoico, perché le sfumature si verificano nel formato digitale a cristalli della mente divina, o super subconscio, dove si trova la vostra vera natura divina. Gli esseri umani, che operano nel cervello egoico spesso respingono ciò che è veramente disponibile in questi vettori, questo è il motivo per cui dei portali di lucidità mentale di un elevato quoziente di luce sono essenziali per la crescita individuale nell'ascensione. Tale è il percorso della dualità. Ma anche i miscredenti sono espansi dall'esperienza, che si è immediatamente riconosciuta o respinta. Vi abbiamo detto in precedenza, che tutte le strutture piramidali generano automaticamente un opposto riflettente in modo da formare un'otaedro in multidimensionalità. In quanto tali, generano una frequenza di suono codificata in luce, che forma connessioni assiatonali attraverso la legge di oscillazione armonica, formando una rete cosmica multidimensionale di ricevimento e di trasmissione. 2012, accelerazione dei sintomi d'ascensione. Tutto sta accelerando, il tempo sta accelerando mentre l'ascensione si fa centrale all'interno delle vostre esperienze individuali e di gruppo. L'anno 2012 sarà intenso e avrà periodi di calibrazione, che potrebbero gettare l'umanità in uno squilibrio momentaneo. In base a come la dualità del pianeta si ricalibra nel campo cristallino, ciò rimodellerà anche l'esperienza degli uomini, delle forze visibili e invisibili della natura e quella della faccia della stessa Terra. Ogni modello astrologico, ogni data di eclissi, solstizi, equinozi e la fase lunare è estremamente potente nel 2012. Questi vengono amplificati in modo esponenziale da espulsioni di massa coronale, venti solari. L'umanità sentirà l'impatto di questi eventi attraverso quello che viene definito sintomi d'ascensione, e questi possono essere vissuti come sbalzi di umore, vertigini, insonnia, ansia, letargia, ansia, apatia e stanchezza. Per ogni avanzamento di energia sarà necessario un aggiustamento fisico, emotivo e mentale per le più alte frequenze scaricate. È simile ad un corso di formazione, quello progettato per aumentare la capacità del genere umano ad operare in una più alta energia di risonanza. I corsi intensivi fluttueranno, in un importante modello continuo, guadagnando l'inerzia attraverso il 12-12-2012, la dodicesima onda della scienza. E' davvero un momento propizio. Vi potreste a volte sentire come se stesse facendo un passo indietro prima di fare due passi avanti qualcosa di simile ad un Saturno retrogrado. Ma tenete a mente, i due passi in avanti si verificheranno. Non disperate, perché i sintomi passeranno in fretta, e i benefici saranno un voi più forte. La chiave è capire ciò che sta accadendo, e perseverare e mantenere un'energia positiva e un intatto campo aurico. Ci sono energie di bilanciamento, comunque, all'interno dei cambiamenti del 2012. L'eclissi di sole dell'anello di fuoco del 20 maggio, è seguito da una eclissi lunare il 4 giugno. Le energie di questa fase sono in realtà molto equilibrate, musicali in natura. I codici di luce hanno una tonalità, che migliora la vostra capacità di trasformarvi nel corpo di luce cristallina mercana, in quanto i download contengono progressioni armoniche melodiche, che incrementano la capacità del vostro campo. 4 date chiave di bilanciamento all'interno dell'anello di fuoco. 20 marzo equinozio la quarta, e finale, ondata dell'attivazione cosmica, caricamento per il download dell'anello di fuoco e eclissi solare del 20 maggio 2012 e l'inizializzazione dei codici cristallini. 20 maggio eclissi solare del cerchio di fuoco l'apice della fase finale dell'attivazione cosmica. Macrointegrazione dell'umanità a equilibrio del divino maschile attraverso le onde di bilanciamento del femminile divino come l'afflusso del Delfino d'Oro. 4 giugno eclissi lunare microintegrazione dell'umanità a equilibrio del divino femminile. 6 giugno transito di venere integrazione con l'alleanza siriano e pleiadiana, il pieno ritorno delle energie del Delfino d'Oro, l'integrazione iniziale del divino femminile al maschile divino. 20 giugno solstizio d'estate estremamente potente, completamento di un quartetto di date con l'eclissi solare del 20 maggio e l'eclissi lunare del 4 giugno e il transito di venere del 6 giugno. Questa sarà un'energia estremamente intensa, ma equilibrante, che incorpora un afflusso finale di codici energetici e permette ulteriori rilasci ostacolati. Il complesso ricevente piramidale. Il complesso tripiramidale nell'isola di Galveston è nell'esatto allineamento latitudinale, 29.6 gradi, con il complesso tripiramidale di Giza, in Egitto. Ciò è estremamente importante, per quanto riguarda la linea energetica assiettonale, che unisce i due complessi. Le matrici dei due complessi tripiramidali serviranno per portare le energie dell'attivazione cristallina nella fase finale dell'attivazione cosmica. Vi diciamo che i due complessi piramidali, Giza e Modi Gardens, sono estremamente importanti per l'ascensione. Questi complessi di tre piramidi sono ricevitori e trasmettitori per tutte le altre piramidi e per lo strato cristallino della Terra. Essi comunicano con i dischi solari dorati e con la griglia cristallina 144, ricevono i codici e li distribuiscono. Ecco perché abbiamo esortato il nostro canale a guidare un gruppo a Giza nel periodo iniziale della 12 ondata, e perché abbiamo chiesto il completamento a modi nell'eclissi dell'Anello di Fuoco. Ciò che sta accadendo nell'isola di Galveston, che è stata definita la Testa della Colomba, sta influenzando tutto l'emisfero occidentale in congiunzione con Giza ed il ruolo, che essa nell'emisfero orientale del pianeta. La ventinovesima latitudine è la massa del centro terrestre. La ventinovesima latitudine fu appositamente scelta dato che essa è un centro importante per le masse terrestri e per i centri dell'umanità. La maggior concentrazione nella superficie del vostro pianeta si è in quello che è definito emisfero nord sopra l'equatore, visto che in esso risiede la maggioranza dell'umanità e la porzione maggiore di terre emerse. Di conseguenza la ventinovesima latitudine nord è un punto centrale per il vostro nord ed il vostro sud, nella vostra espressione. È il vero equatore per alcuni particolari. Ciò era noto nei tempi antichi. Il complesso di modi non è il primo complesso piramidale in questa energia latitudinale. E in verità ci sono più piramidi a Giza rispetto alle tre maggiori esistenti nella vostra realtà fisica. Le piramidi Phi sono in realtà infiniti ottaedri in termini multidimensionali senza tempo. Vi diciamo che il complesso piramidale atlantideo una volta era localizzato molto vicino alle piramidi di Galveston nell'ultima fase di Atlantide. Era un tempo in cui il livello del mare era molto più basso rispetto ad oggi. L'attuale localizzazione del complesso tripiramidale di Modi è approssimativamente a 5 miglia nautiche rispetto al complesso piramidale atlantideo, che ora è sommerso nelle acque del golfo dai sedimenti e dalle sabbie del tempo. Prima del diluvio di Atlantide, le aree delle scogliera del golfo del Texas, che attualmente sono sommerse erano sopra il livello del mare. Un ponte di terra collegava poseda Atlantide allo Yucatane a parti dell'attuale Texas. Potrebbe essere interessante per voi sapere che il complesso piramidale ospitava i 13 originali teschi di cristallo, e il teschio chiamato Max era messo al centro dei 12. Ecco perché esso fu portato all'interno del complesso dopo la sua costruzione per connettere le energie. Così vi diciamo che la costruzione delle piramidi di Modi non fu in verità un caso. Un reale trasferimento di frequenza energetica ha avuto luogo tra il complesso Atlantideo sommerso e le piramidi di Modi. Le piramidi di Modi Garden sono state caricate dalle energie multidimensionali del complesso Atlantideo sommerso e ora sono pienamente formattate per giocare un ruolo di primaria importanza nell'attivazione cosmica. La comunicazione tra Giza e Modi sta entrando a pieno ritmo. Coloro che furono a Giza a febbraio porteranno i codici da Giza a Modi. Le due energie si fonderanno. Costruite nel modo più appropriato o con intento spirituale, le piramidi sul piano terreno divengono energie viventi coscienti, contenenti una miriade di proprietà, che non sono riconosciute o addirittura ripudiate dai vostri principali accademici. E mentre l'intento con il quale vengono impiegate influenza l'interfaccia di queste batterie viventi geometriche coscienti, la loro forma non permetterà alle energie più dense di attraversarle ed espandersi all'interno di esse. Ed ancora, quando ci si avvicina alle piramidi con il giusto intento, esse immagazzinano, amplificano e trasmettono l'energia in un modo simile ai cristalli di quarzo fi. In base a come le piramidi sono allineate in modo terrestre e celeste, esse possono creare anomalie elettriche, un aspetto questo che altera la gravità e il tempo dimensionale. Con specifiche frequenze all'interno di esse, si verifica un'assenza di gravità e una distorsione del tempo, sia rallentando che accelerando la luce ed il flusso del rapporto ionico all'interno ed intorno ad esse. Il complesso tripiramidale di Modi è molto più importante di quanto si pensi. passare del tempo nella piramide blu di Modi è estremamente benefico, dato che essa è direttamente connessa con Giza. Cancelli quantici frequenziali. I restanti equinozi, solstizi ed eclissi, che ci attendono nel conto alla rovescia per l'ascensione sono cancelli frequenziali. I vettori di buon auspicio non sono vincolati dal tempo lineare, né per le limitazioni di accesso dimensionali all'interno del vostro attuale paradigma spazio-tempo. E mentre vi abbiamo detto che molte aree nel vostro pianeta sono già in quinta dimensione, durante gli equinozi dei tre anni precedenti all'ascensione, la soglia ad una maggiore dimensionalità si è aperta molto di più. In quanto tale, vi diciamo che un portale unico dalla dodicesima dimensione è attivo attraverso l'attivazione cristallina cosmica di quella dodicesima onda, che si manifesterà il 20 marzo 2012 e raggiungerà il suo apice nell'eclissi solare del 20 maggio 2012. In effetti si tratta di un prerequisito obbligatorio della nuova Terra. Sia l'umanità, che in effetti la Terra fisica, richiedono questa riforma d'elevazione cristallina al fine di superare il paradigma dimensionale della dualità, che altrimenti li seppellirebbe nella duplicità ciclica della discendente giusta posizione della polarità. L'apertura della dodicesima dimensione dell'eclissi solare in maggio 2012 sarà la sintesi più prolifica dell'energia della dodicesima dimensione, che si riversa sulla Terra fin dai tempi dell'età d'oro di Atlantide, circa 35.000 anni fa, come misurato nel vostro presente paradigma di tempo lineare. L'apertura cristallina non sarà un'energia così austera come la fase elettromagnetica dell'attivazione, ma sarà una vicenda formidabile e grande, e la conseguente amplificazione di energia è immensa e ad ampio raggio. Questa energia entrerà nella Terra di Giza e di Modi, e c'è uno scopo in questa posizione. Il tredicesimo campo. Anche se l'energia cristallina è inizialmente accessibile per voi nella quinta dimensione, l'intero spettro del campo quantico cristallino esiste solo pienamente nella dodicesima dimensione, opportunamente la coscienza dell'aspetto cristallino del regno minerale della Terra viene dinamicamente trasformato tramite la undicesima dimensione del raggio d'oro e la dodicesima dimensione attraverso il raggio platino cristallino. L'iniziale unificazione con l'anello di fuoco formerà il tredicesimo campo d'unificazione quantica, l'unità di tutte le dodici dimensioni. La dodicesima dimensione è la risonanza più alta delle dimensionalità terrestri, e si può dire essere la prima dimensione del completo reame cristallino. È la dimensione del più alto raggio cosmico, quella del raggio platino. Nell'attivazione cosmica del 2012, il 12 formerà il tredicesimo campo, e questo è l'armonico unificato di tutte le dimensioni nell'unità. Il ventinovesimo parallelo dell'unità piramidale. Entrambi i complessi piramidali poi in allineamento assiettonale, sia sul vettore lattitudinale 29, sia emettendo l'energia del Phi, diventano i motori di divulgazione del completamento dell'attivazione cosmica del 2012, inviando il tredicesimo campo. Carissimi, l'era cristallina è una certezza. Si avvicina con sempre più grande inerzia. La separazione della dualità è stata un'esperienza potente e degna per l'umanità presso l'Università della Terra Lineare. La dualità è stata un'insegnate prolifico, ma il curriculum lineare volge al termine per molti di voi. È tempo di ricevere il diploma di polarità e iniziare i lavori post laurea nei regni superiori del campo zero nell'omniverso cristallino. Chiusura. Maestri, nel conto alla rovescia per l'eminente ascensione ci sono alcune date che aprono straordinarie finestre frequenziali. Nei tre anni antecedenti al 21 dicembre 2012, le più importanti di queste sono i solstizi, equinozi, date triplici e le fasi delle eclissi solari e lunari. Nel 2012 la triplice data del 12 dicembre 12 e gli eventi astronomici citati sono esponenzialmente più potenti rispetto agli anni precedenti. Ognuno di questi sono progettati per utilizzare le rare aperture al fine di facilitare il ricevimento barra download di straordinarie energie codificate, necessarie per la micro e macro ascensione. Questi portali dovrebbero essere riconosciuti ed utilizzati. Vi esortiamo a visitare i nodi di potere, i complessi di portali vortassiali e i siti sacri su questi portali frequenziali. Unitevi nelle cerimonie collettive e le celebrazioni di gruppo, in quanto in tali occasioni riceverete e invierete un'onda di luce cristallina di trasformazione in tutto il multiverso, che è più grande ed esteso di quanto possiate immaginare. Si tratta di unità collettiva, unità illuminata, che trasforma la vostra Terra e oltre. È sempre stato così. Vi diciamo che il 2012 è un tempo preannunciato. È il completamento lineare dell'ascensione planetaria. L'ascensione planetaria fornisce la nuova Terra all'interno di un modello espanso e una griglia cristallina 144 perfettamente funzionante. Queste sono le energie che permetteranno alla conversione armonica di massa dell'umanità di raggiungere l'ascensione. Ma vi diciamo che i cambiamenti saranno graduali tra il genere umano in termini di movimento lineare del tempo. Vi diciamo che tutto questo non si completa il 21 dicembre 2012, ma il 12 dicembre 2012. Io sono Metatron, e condivido con voi queste verità. Voi siete amati. E così è e così è.